Tra poco Sul canale 17 di Fanno TV, l'informazione locale Perde il controllo del trattore, operaio ferito ad una gamba Cavallo scosso, fugge in superstrada contro mano, panico tra gli automobilisti Il mondo del biologico e della medicina naturale, protagonisti di Biosalus con numeri da record La teoria gender, un attacco alla famiglia e al matrimonio, parola di Papa Francesco, martedì sera se ne parlerà a Fanno Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia, con Marco Ferri Buonasera, buonasera a tutti cari telespettatori di Fanno TV Benvenuti a questo nuovo appuntamento con l'informazione locale sul canale 17 Cominciamo dalla cronaca, nella tarda mattinata di oggi, poco prima delle 13 Sulla strada provinciale 105, che da Monteporzio va verso San Giorgio Un trattore che trasportava quintali d'uva, appena raccolta, per causa ancora in fase di accertamento da parte dei vigili urbani di Mondavio Ha sbandato ed è finito violentemente contro una pianta, perdendo parzialmente il carico Il suo conducente, Mauro Pacenti, un operaio di 55 anni di Senigallia, dipendente dell'azienda vinicola Ser Filippi di Marotta Ha riportato serie fratture ad una gamba, tanto che i sanitari del 118 intervenuti sul posto Hanno attevato l'elisoccorso che lo ha trasportato alla torrette di Ancona Nessun altro mezzo è stato coinvolto nell'incidente Sul posto anche i vigili del fuoco per estrarre l'operaio dal mezzo E c'è stato un incidente la notte scorsa intorno alle due e mezza Lungo la Flaminia tra Carrara e Lucrezia Una Smart con a bordo due ragazzi Secondo alcune testimonianze è finita fuori strada contro la recensione di una casa lungo la statale L'uscita di strada probabilmente è stata causata dall'asfalto, reso liscio dalla pioggia Fortunatamente nell'impatto la colonnina del gas che è posizionata all'esterno dell'abitazione Non ha subito danni, sul posto è intervenuta una pattuglia dei carabinieri di Fano E adesso parliamo invece di quel cavallo che impaurito ha disarcionato il suo fantino Ed è fuggito lungo la superstrada contro mano, pensate Il racconto di quello che è successo di Lino Balestre Ha fatto quello che fa sempre Partire al trotto e scaricare tutta la potenza che madre natura gli ha donato nei garretti E correre, correre più veloce di un lampo Col vento che gli spettina la nera criniera e mettere il muso davanti a tutti Peccato che quella imboccata non era una veloce pista di trotto ma la superstrada 73 bis Fano-Grosseto All'altezza di Bellocchi e i cavalli contro cui correva erano quelli dei motori, delle macchine che gli andavano incontro Protagonista di questa avventura, senza gravi conseguenze per nessuno Grazie al sangue freddo e allo sprezzo del pericolo di due agenti del commissariato di Fano Un cavallo da corsa, Sinfonia A.N. Uno splendido esemplare femmina di 5 anni di razza Baio Scuro Che vanta ben 12 record in carriera Domenica mattina scorsa, assieme al suo proprietario e conduttore Stava facendo una sgambata in un campo in località Il Torno Quando avviene l'imponderabile E' stato spaventato dalle fucilate Ha dato il primo colpo e non c'è mossa Il secondo colpo ha inteso avvenire il piombo E si è scatenata, è partita Mi ha scaricato e non ho visto più niente Fortunatamente non è successo nulla Né a nessuno Grazie a quelli della polizia che sono stati delle gente straordinarie In un attimo ha fermato tutto Preso la cavalla, non è successo niente È stato un lavoro di prima scelta Un cavallo in piena corsa Con tanto di ghinguetta attaccata e contromano E' una condizione di estremo pericolo Non solo per l'animale Ma per l'incolumità degli automobilisti Vista l'elevata probabilità di collisione Uno dei due agenti ferma la macchina E tenta in vano anche con l'aiuto di un motociclista Di arrestare la corsa del cavallo Finendo a terra anche due volte Ma niente di fatto Il suo collega invece in auto Intraversando la volante sulla carreggiata Ferma il traffico E con prontezza e l'aiuto di un esperto Che passava di lì in auto Ha arrestato la corsa di sinfonia Siamo riusciti a bloccare il traffico veicolare Pararci, mettere a intraversare la macchina Per bloccare il traffico completamente Pararci davanti e bloccare finalmente La corsa del cavallo Per l'incolumità degli automobilisti Che in quel momento stavano sopraggiungendo Il primo tentativo è andato a vuoto Anzi nel primo tentativo Io sono riuscito ad afferrare una briglia del cavallo Però si è vista la velocità Mi ha strattonato, mi ha scaraventato in terra E poi da lì è cominciata la corsa dietro l'animale Cercando di riuscire a fermarlo Per fortuna siamo riusciti Dopo due tentativi Soprattutto senza creare nessun problema Ai veicoli che sopraggiungevano Quindi senza nessun incidente stradale È andata bene Grande concretezza Sprezzo del pericolo Perché hanno rischiato di essere messi sotto Anche da veicoli che sopraggiungevano Però questo è il nostro lavoro È veramente la nostra attività Loro l'hanno interpretata veramente al meglio Quindi grande interpretazione Grande lucidità Grande determinazione e concretezza Riprendono le attività del Grillo Dopo i lavori di riqualificazione Dopo un soporluogo che si è svolto questa mattina Presso il Nido Oggi ha ripreso regolarmente l'attività Dopo essere stata interessata per circa tre mesi Da significativi interventi di riqualificazione Al sopralluogo hanno partecipato Gli assessori fanesi Assessori ai lavori pubblici E Samuele Mascarin Che è la delega ai servizi educativi Nonché la dottoressa Mosciatti Che è dirigente dei servizi educativi Un investimento da parte del Comune di Fano Di 120.000 euro come base di gara Che si è giudicata alla ditta Savini di Senigallia L'intervento risulta tanto più rilevante Poiché la struttura del Grillo con i suoi 60 utenti È il nido più grande e strutturato della città di Fano Nonché una realtà storica Dei servizi educativi fanesi Andiamo adesso a Urbino Dove ieri c'è stato un importante appuntamento Un evento che ha richiamato tantissime persone BioSalus Le famiglie che ad oggi acquistano prodotti biologici Non solo di carattere alimentare Sono ormai 7 su 10 E negli ultimi mesi la percentuale è salita dal 69% al 74% E di conseguenza a crescere è anche il fatturato delle aziende Salito dal 2014 ad oggi del 15% Un giro d'affari di oltre 2 miliardi di euro Numeri impressionanti se pensiamo che nel mondo economico Aziende che incrementano già dell'1,50% anno su anno Sono delle aziende leader di mercato Una testimonianza di quanta attenzione e cultura ci sia dietro questi numeri Sono le oltre 30 mila presenze Dichiarate dagli organizzatori per BioSalus 2016 Il festival nazionale del biologico e del benessere olistico Che da 10 anni si tiene ad Urbino E che quest'anno ha visto coinvolti negli spazi della data Anche il paese ospite, il Tibet Tra le novità sicuramente quest'anno molto importante È stata quella dedicata ai bambini Per cui abbiamo realizzato un vero mini festival per bambini e famiglie E un'altra cosa molto importante e ben riuscita da sottolineare Per questa edizione 2016 è l'allargamento del festival Proprio fisicamente anche presso l'edificio data Conosciuto anche come l'orto dell'abbondanza Oppure anche conosciuto come l'ex stalle del Duca di Montefeltro Per cui il BioSalus è cresciuto Siamo molto contenti Il pubblico ha apprezzato Per cui tutti gli ingredienti per una riuscita decima edizione Naturalmente cibo e cura della persona vanno a braccetto E sono le due facce della stessa medaglia Una filosofia di vita Ed è per questo che a BioSalus, nello splendido collegio Raffaello Trovano posto ogni anno oltre 100 espositori Di prodotti biologici e filoterapici E anche conferenze e dibattiti sulla medicina naturale La teoria gender Ne ha parlato, ha fatto un accenno qualche giorno fa Anche Papa Francesco Se ne parlerà a Fano martedì sera Papa Francesco, parlando di famiglia davanti a seminaristi e sacerdoti Nella chiesa dell'assunta di Tbilisi Nel suo recente viaggio in Georgia Non ha usato mezzi termini C'è un'altra guerra mondiale, ha detto Quella per distruggere il matrimonio Scagliandosi contro il grande nemico La teoria del gender Il matrimonio, continua il pontefice Non si distrugge con le armi Si distrugge con le idee E ci sono coalizioni ideologiche Che lo distruggono Per più di un'ora ed elogiando il ruolo della donna Il Santo Padre ha parlato di questi temi Davanti al piccolo greggio di cattolici Che sono appena l'1% della popolazione Per il 90% ortodossa Questi ed altri temi Sempre legati alla famiglia e ai figli Sono al centro anche dell'incontro Che si terrà domani sera Nell'auditorium del Cinema Masetti Alle ore 21 a Fano Come comitato difendiamo i nostri figli Per l'area di Pesaro Urbino Abbiamo sentito fortissima l'esigenza di affermare L'importanza della famiglia come patrimonio universale Che quindi non è riducibile a nessuna appartenenza Di tipo politico, culturale o confessionale L'incontro è aperto a tutti quanti Vogliono approfondire questa tematica? Diciamo che su questa tematica A volte c'è superficialità A volte disinformazione A volte anche una certa diffidenza È importante, raccomandiamo essere presenti Per formarsi una opinione fondata Adesso apriamo la pagina sportiva Vedo già pronto impostazione Matteo Del Vecchio Per tutte le notizie dello sport Sì, grazie Marco Apriamo la pagina sportiva di questa sera Parlando del campionato di Lega Pro Con l'Alma Juventus Fano Che sabato sera è scesa in campo Al Mancini contro la Maceratese La truppa Granata era chiamata Ad una reazione dopo il doppio KO Contro San Benedettese e Teramo Reazione che c'è stata in termini di gioco Ma non di risultato 0-0 il punteggio finale Con i padroni di casa pericolosi In varie occasioni Con Gucci, Masini e Borrelli Ma che alla fine si mangiano le mani Per l'occasione persa Una vittoria infatti avrebbe consentito Al Fano di superare ben sette squadre Oltre che di staccare la stessa Maceratese Il pareggio invece fa rimanere i Granata Ancorati al terzultimo posto in classifica Con alle spalle le sole Maceratese e Forlì Nei piani alti della classifica Cambio della guardia in vetta Col Pordenone che batte il Venezia Nel big match di giornata Con un gol di semenzato E la scavalca in classifica Sabato prossimo per l'ottava giornata L'Alma sarà di scena Al Mappei Stadium di Reggio Emilia Dove ad attenderla ci sarà La Reggiana di Mister Colucci Pareggio a reti bianche invece Nel campionato di Serie D Per la Vispesaro Che in Abruzzo pareggia 0-0 Contro il San Nicolò E 0-0 è anche il risultato Delle squadre locali Che militano nel campionato d'eccellenza La Pergolese impatta sul campo Dell'Elvia Recina Resta ultima in classifica Ma conquista il primo punto Della stagione Mentre Urbania e Fossombrone Dopo i pareggi interni Rispettivamente con Portodascoli E San Giustese Restano in zona play-out Dal calcio passiamo Al calcio a 5 Perché sabato si è alzato Sipario sul campionato nazionale Di Serie B Subito derby Alla prima giornata Con l'Alma Juventus fano Del neo allenatore Ferri Che supera l'età beta Di Mister Davide Barnesi Con un netto 7-1 Nella stessa categoria Vittoria del tecnico fanese Lia Renzoni E della sua Buldo Glucrezia Per 5-2 Sul Cus Macerata Cambiamo pagina E passiamo alla palla ovale Perché con l'inizio di ottobre È partito anche il campionato Di C1 di rugby Debutto amaro per il Fano Sconfitto per 18-12 A San Giovanni Teatino Dal Gran Sasso Chieti Più abile degli ospiti Ad entrare subito in partita Per i ragazzi di coach Franco Tonelli Una metatesta per Rossolini E Pasin E una trasformazione Da due punti Di Sebastian Canapini Vince invece L'under 18 Di Giorgio Brunacci Che supera 76-14 La Fenice Fermo E chiudiamo la rubrica Sportiva di questa sera Con una notizia di bocce Perché venerdì sera La bocciofila Tavernelle Si sono svolte Le fasi finali Del Memorial Sanchioni Una gara squadra Ad invito Riservata a 6 bocciofile Del territorio Il lato agonistico Della competizione Ha fatto registrare La vittoria Della squadra di Lucrezia Mentre dal lato umano La medaglia d'oro Va alla bocciofila San Cristoforo di Fano Che durante la manifestazione Ha schierato Tra gli altri Gli atleti Manuel De Marc E Manuel Anniballi Ragazzi affetti Dalla sindrome di Down Che grazie alla bocciofila Fanese Si stanno distinguendo Oramai da un po' di tempo Anche tra i normodotati E con questa bella notizia Di sport e integrazione Si chiude la pagina sportiva Di questa sera Vi ricordiamo Che è attivo Il nuovo indirizzo internet Dove potete inviare Le vostre segnalazioni Le vostre foto E i vostri video Che è sportchiocciolafanotv.it Dalla redazione sportiva è tutto Da parte mia L'augurio a voi Telespettatori Di una buona serata Bene Grazie a Matteo Del Vecchio Della redazione sportiva E adesso Ci salutiamo Facendo gli auguri Davvero Di buon compleanno A Adele Gian Bartolomei Di Mondolfo Che pensate Il 2 ottobre scorso Ha compiuto la bellezza Di 105 anni Complimenti E auguri vivissimi Nata a San Costanzo Nel 1911 È stata festeggiata Da tutta la comunità Di Mondolfo Dai familiari Dai parenti E naturalmente Ci uniamo anche noi 105 anni Auguri davvero È tutto Per l'informazione Occhio alla notizia Torna domani Mentre domani mattina Alle 7.30 L'appuntamento è con In diretta Con la rassegna stampa Occhio ai giornali Tra poco Subito dopo Il telegiornale Andrà in onda Uno speciale Presentazione Della nuova società APAV Di pallavolo Grazie per aver seguito Occhio alla notizia Arrivederci Autore dei sottotitoli